Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Fugile puntato contro la tabaccaia a Ponte Murello di Cartoceto dopo la rapina il bandito fuggia a piedi A bellocchi di Fanno una mamma di 29 anni è stata arrestata dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti Dopo la strage di Lupi a Pozzuolo di Serungarina l'allevatore decide di dormire nel cortile dell'azienda Il Consiglio di Stato dà ragione al comune di Fanno nell'area dell'ex zuccherificio adesso potrà decidere cosa costruire Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Oggi pomeriggio a Ponte Murello di Cartoceto c'è stata una rapina ai danni di una tabaccheria sul posto è andato Lino Balestra per raccogliere tutte le informazioni per il servizio Signora, che cosa è successo? Ha subito una rapina l'ora fa tutto coperto non è che con un fucile in mano con le mosse mi ha fatto capire di soldi, di tutti i soldi mi ha spaccato tutto qui davanti perché io non riuscivo poi la fin sono riuscita è andato via, non è stata una parola è andato via a piedi con un ombrello sulle spalle aperto pacifico e basta tutto lì era alto, non sa come aveva persona non alta, piccola secondo me non era tanto grossa come la fila e non ha conferito una parola non ha detto niente non ha detto A non ha detto A dalle immagini non si vede niente? no, no, non si riconosce era travisato, incappucciato sì, sì, c'era una felpa col cappuccio degli occhiali spessi, non da solo non so cos'erano qui probabilmente aveva un pularco, qualcosa mani coperte, stu fucili in mano e basta quanto ha portato via? adesso dobbiamo vedere dobbiamo fare un po' di conti quello che c'era in casa solo soldi ha preso? sì, 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 quello voleva ha spaccato tutto qui siete un po' così in agitazione perché non è la prima volta noi già due scoperti, spaventati due prese, una di notte e le sera alle 10 della sera, la prima con una pistola puntata sempre io da sola e così di notte, tutte le ore non è che dici di notte anche di giorno e dopo aver arraffato quello che poteva dalla cassa il rapinatore solitario incappucciato e con l'ombrello si è allontanato a piedi e la via di fuga è quella strada laggiù in fondo seguito con lo sguardo dalla titolare complimenti anche per il coraggio e adesso invece andiamo a Bellocchi Bellocchi di Fano dove una giovane mamma di 29 anni è stata arrestata in flagranza di reato mentre spacciava droga nello zainetto che nascondeva nel bagagliaio dell'auto aveva un vero e proprio bazar della droga 180 grammi di cocaina mezzo chilo di marijuana 1,3 kg di hashish un bilancino di precisione e 1160 euro in contanti provento probabilmente dell'attività di spaccio per questo i carabinieri di Fano hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio una giovane mamma di 29 anni incensurata che si trovava al volante della sua utilitaria nella zona di Bellocchi con a bordo uno dei suoi due bambini c'è voluto l'occhio clinico di uno dei due agenti dell'arma di pattuglia durante un servizio in borghese per riconoscere il volto della giovane e ricordare l'occasione in cui l'aveva visto è la convivente di un pluri pregiudicato sottoposto a controlli e affidato ai servizi sociali per reati sempre in maniera di stupefacenti da qui la decisione di fermarla e l'agitazione della donna alle domande di rito mette sul chivalà gli agenti che così decidono di perquisire l'auto e rinvengono in questo modo lo zainetto con la droga e i contanti ora la donna è agli arresti domiciliari in quanto mamma di due bambini piccoli e nei prossimi giorni ci sarà l'udienza di convalida oggi siamo andati a Pozzuolo nel comune di Serrungarina per incontrare quell'allevatore che ieri sempre nel nostro telegiornale al telefono ci aveva raccontato di quella strage di pecore che aveva subito soltanto la sera prima è arrabbiato e scoraggiato Michele Vitali dopo che nella notte tra domenica e lunedì il suo allevamento di Agnelli ha subito l'attacco dei lupi che hanno fatto una vera e propria strage come ogni mattina intorno alle 6 lui e la madre iniziano a dar da mangiare agli animali ma appena arrivati nei pressi della stalla hanno fatto la mara scoperta io per carità il lupo gli animali tutti sanno dal topo a quel che è per carità però che il lupo va bene a fare un lavoro così che la nostra economia no siamo nell'azienda agricola di Michele Vitali a Pozzuolo qui i lupi l'altra mattina hanno attaccato il suo recinto dove teneva i vitelli e gli agnelli e quindi insomma c'è stata una strage praticamente grande scoramento proprio da parte dell'allevatore per questo terzo attacco in poco meno di un anno e mezzo Michele allora questi erano capi pronti per la vendita quindi oltre insomma al danno insomma così morale c'è anche quello economico c'è quello economico e anche quello dei clienti che avevano scelto purtroppo il loro agnello perché questi stagnelli sono tutti numerati secondo la famiglia che li doveva prendere e anche loro si trovano adesso in difficoltà che non hanno che non hanno da sacrificare l'agnello per la loro Pasqua anche questo il problema però non è dell'ultima ora cioè tu hai subito altri attacchi altri due hanno attaccato i somari che ho anche i somari e hanno attaccato le pecore sono entrati dentro qua ci sono i cancelli da circa un metro un metro e venti hanno saltato i cancelli sono entrati dentro lì c'è circa 80 e poi hanno cominciato a fare la strage loro dentro perché tutti gli animali da circa 60 kg hanno riusciti a buttare a aprire il cancello sono usciti fuori fuori hanno fatto quello che si sta vedendo li sto caricando si vede quel che è successo e gli altri sono rimasti un po' in giro messi barcollanti tu ti sei rivolto un po' alle autorità agli enti per cercare di avere un minimo una volta anche l'altra volta le volte precedenti però niente il risultato il risultato è che se vedono in giro un lupo che gli fa male il dente che la mia pecore era dura si arrabbiano con me perché il lupo si è fatto male al dente e quello è il fatto tu adesso stai meditando anche di lasciarla un po' questa tipologia di allevamento bisogna lasciarla perché fuori a parte fuori erano dentro un po' fa le carceri perché fuori dentro non dentro da parte o che era a fare le sale persone però per gli animali no quante inchiusche non ci piove dentro e c'è una porta che ne escono che magari vanno fuori di notte basta invece tocca fare le stalle come se deve le lasci fuori poi queste qui sono farsi le 5 5 e mezzo di mattina al momento perché il giorno è caldo loro mangiano la mattina se uno le fa mangiare alle 7 non mangiano più perciò si dà da mangiare quant'è le 5 lì l'ora lì infatti sono venuto giù alle 6 e mi sono trovato quel che c'è stanotte ho dormito qua stanotte ho dormito qua proprio qui dove siamo adesso in caso che o loro una volpe o qualcosa la riprendevo per farvela vedere e ci sono novità importanti sull'area dell'ex zuccherificio dove appunto un tempo sorgeva l'ex zuccherificio il Consiglio di Stato infatti dopo una serie di ricorsi al Tar ha dato ragione al Comune di Fano che adesso avrà diritto di decidere cosa costruire cosa realizzare in quella zona così strategica per la città titoli di coda e parola fine sull'annosa vicenda che vedeva contrapposte la Giunta Seri e la società Madonna Ponte sulla destinazione dell'area ex zuccherificio il Consiglio di Stato ha pubblicato su Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri la sentenza definitiva giudicando le argomentazioni presentate nel ricorso dal Comune di Fano congrue e corrette ribaltando completamente così quanto espresso dal Tar delle Marche circa la legittimità dell'amministrazione Seri di non votare la variante sullo zuccherificio nel febbraio del 2015 ultimo atto di un iter iniziato con l'amministrazione Aguzzi sulla destinazione di quell'area così importante del piano regolatore sentenza definitiva questa in quanto non sono ammessi altri gradi di giudizio e che rimette al Comune di Fano la piena potestà sulla pianificazione dell'area un altro importante iter proceduale segna un punto a favore del Comune di Fano l'area dell'ex zuccherificio sì beh in effetti il Consiglio di Stato ha dato completamente ragione al Consiglio Comunale e siamo molto diciamo contenti e soddisfatti di questa soluzione qual è il la motivazione cardine attorno al quale gira questa sentenza definitiva che il Consiglio Comunale può legittimamente diciamo fare uso della discrezionalità amministrativa in materia di urbanistica ora che anche la società proprietaria Madonna Ponte è sbloccata dal vincolo giuridico si può passare alla parte 2 del piano dopo il lavoro di condivisione sociale e confronto aperto con chi aveva qualcosa da dire sulla destinazione di quell'area avviato dall'assessore Paolini ora si deve passare a come realizzare le progettualità espresse ma sicuramente diciamo così rende la situazione più facile e sblocca la situazione in realtà avere adesso la possibilità di un dialogo pieno con la società Madonna Ponte è la condizione necessaria per riuscire ad attuare quegli obiettivi pubblici importanti di impiantistiche sportive e quanto altro auditorium e quanto altro che nel percorso partecipato sono emersi come bisogni della città e che la città vuol vedere realizzati nell'area ex Zucarificio insieme ovviamente ad altre realizzazioni che serviranno ad arrivare a quegli obiettivi quindi adesso può davvero iniziare quella ricerca di un equilibrio imprenditoriale e ad investire che possa far decollare e trasformare l'area di Ponte Metauro i tre ragazzi che vedete alle mie spalle sono i tre giovani che hanno disputato a Catania i campionati italiani assoluti di beach volley tra gli atleti appunto che si sono qualificati alla fase finale e c'erano anche questi tre giovani fanesi Davide Alessandrini Ludovica Montesi ed Eleonora Mucchietto Mucchietto e adesso prima di chiudere il nostro telegiornale come sempre diamo spazio alle vostre segnalazioni e andiamo a vedere questa che ci è arrivata su Whatsapp al numero 3384968250 è una foto che ci ha inviato una nostra telespettatrice e che mostra questa bicicletta non sappiamo se abbandonata oppure se è caduta lì per una folata di vento perché siamo vedete c'è ancora il cavalletto aperto insomma non sappiamo il motivo però ce l'ha inviata e si trova sul ciglio della siamo all'Arzilla vicino al mare così almeno si o comunque vicino al torrente ok mandateci pure le vostre segnalazioni fotografie video al nostro canale Whatsapp 3384968250 io mi fermo qui vi ricordo che domani sera qui in questo studio in diretta ci sarà il sindaco di Fano Massimo Seri per l'appuntamento consueto di primo cittadino quindi se avete domande da rivolgere al sindaco di Fano potete già prepararle brevi sintetiche inviatecele sia su Whatsapp che al nostro indirizzo email redazione occhialanotizia.it il telegiornale è finito buona serata a tutti iscriviti al nostro canale Grazie a tutti